Siamo al corso di alta formazione su etica e sicurezza sul lavoro insieme al presidente di ANAS Pietro Ciucci che ha appena terminato una lezione magistrale molto densa di contenuti. ANAS è una SPA totale controllo pubblico che ha una storia decennale alle spalle, anzi quasi centenaria di 80 anni alle spalle e gestisce 30.000 km di strade e autostrade nel nostro paese. Quindi lei presidente si trova a gestire un ruolo molto delicato perché ogni giorno si deve confrontare con problemi controversi che sono propri di una grande realtà aziendale e che affronta anche la progettazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche, penso per esempio al problemi contingenti come quelli dell'attuale crisi economica, della necessità di salvaguardare il lavoro e i diritti del lavoratore e infine ancora mi viene in mente la presenza della vostra azione in territori infiltrati della criminalità organizzata e mi riferisco soprattutto alla Salerno-Reggio Calabria. Ecco presidente, come conciliare tutta questa complessità con l'etica, con una vera etica applicata? Ovviamente non è semplice, l'etica assume diverse connotazioni e comunque non si può certo confondere l'etica con la riaffermazione di obblighi e doveri già previsti per legge, ma è qualcosa di più, riguarda prassi, comportamenti che ci consentono di distinguere azioni tra azioni buone e condivisibili e azioni non buone o azioni cattive. Noi siamo impegnati in prima linea per difendere i nostri appalti, il nostro lavoro da ogni forma di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, operiamo in aree che sono normalmente ad alto rischio di infiltrazione criminale, ma in generale quando si movimentano grandi capitali come normalmente avviene per le opere pubbliche, il rischio e la tentazione, l'attrazione delle iniziative criminali è notevole. Come ci difendiamo, come operiamo? Prendendo ogni tipo di precauzione in termini di trasparenza delle procedure, di semplicità delle procedure, di rispetto e difesa della legalità delle nostre procedure, in termini di qualità della progettazione, di rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione, tutto questo perché alla fine ho avuto modo di dire più spesse volte che se è vero che le infrastrutture rappresentano un elemento essenziale e un contributo fondamentale nello sviluppo economico di un paese, un'infrastruttura perde un po' di questa capacità positiva se non viene realizzata nel rispetto della legalità e della sicurezza del lavoro di chi realizza le infrastrutture stesse. Ecco, una seconda domanda e ultima. L'altro tema di oggi è il tema della sicurezza sul lavoro. Il presidente napolitano di Ineil prima accennava a un sogno, un obiettivo, quello di infortuni zero. Ecco, voi che aprite grandi cantieri in Italia, qual è il vostro approccio alla sicurezza del lavoro e come sta cambiando ANAS in questo settore? Senz'altro la sicurezza del lavoro è uno dei valori prioritarie della nostra azione. Dicevo prima che un'infrastruttura realizzata senza il rispetto della sicurezza del lavoro è un'infrastruttura che produce soltanto parzialmente le sue ricadute positive. Noi consideriamo anche la sicurezza come una forma addirittura di investimento produttivo, quindi in un'ottica imprenditoriale, da cui viene un risultato che è al tempo stesso sociale in termini di sicurezza, di rispetto della vita umana, ma dobbiamo anche vedere l'aspetto quasi di convenienza economica che rafforza e spinge ancora di più a impegnarsi perché significa risparmiare risorse, significa avere maggiore efficienza del lavoro. Un lavoratore che opera in un ambiente più sicuro, un lavoratore senz'altro che è più protetto, che è più efficiente e quindi più produttivo per l'impresa. Questo lo facciamo soltanto per le nostre attività interne, noi abbiamo quasi 7.000 dipendenti, siamo presenti in tutte le regioni italiane, ma abbiamo in questo momento oltre 130 cantieri di lavori grandi, a volte grandissimi, in corso dove lavorano migliaia e migliaia di lavoratori. Allora la sicurezza non è soltanto quella di prevedere e controllare che ci sia nel quadro economico, nel costo di un investimento, anche la voce sicurezza e quindi che ci sia abbastanza denaro, abbastanza risorse in questa voce, ma è importante che poi nei fatti la sicurezza venga applicata, i piani di sicurezza siano all'altezza della situazione e che quindi quel rischio che vorremmo tutti che fosse ridotto a zero sia però ridotto perlomeno a una quantità piccola piccola. Grazie Presidente, buon lavoro.